Palloncini rosa, fiori rosa, insomma Fossacesi è tutta tinta di rosa per questo importante evento. La partenza del Giro d'Italia che ci sarà domani. Tanti eventi in attesa di questo grande momento che rappresenterà una vetrina internazionale per la costa dei Trabocchi. Anche l'installazione della presentosa dinanzi alla Basilica di San Giovanni in Venere, proprio per dare un segnale che anche l'artigianato c'è. Insieme al Giro d'Italia partirà anche il Giro E. Ne abbiamo parlato con il sindaco nel villaggio allestito in Piazza Fantini. Fantini è stato ricordato tanto in questi giorni perché è un grande ciclista nato proprio a Fossacesia. Sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, gli ultimi dettagli? Tutto pronto, grande fatica ma grande entusiasmo. Abbiamo preparato tutto, abbiamo avuto qualche problema che abbiamo superato grazie al lavoro di chi si è prodigato in questi giorni senza risparmiarsi manco le ore notturne. Giro E parte, Giro E 9.30 Village, apertura, poi partenza verso il lungomare di Fossacesia, da dove partirà poi intorno alle 14.13.55 il Giro d'Italia. Comunque abbiamo tutto pronto, siamo tutti e tutto in rosa. E' una pagina storica per Fossacesia, per la costa dei Trabocchi e per l'Abruzzo perché è la grande partenza. Un omaggio anche a Fantini, qui siamo in piazza dove appunto abbiamo dedicato a Fantini dove c'è anche un cippo. Un omaggio anche a Gino Bartali, nostro turista con la cittadinanza onoraria. Un grazie a RCS, un grazie alla regione, un grazie alla provincia. Siamo stati uniti, tutto pronto. Ci sono tanti curiosi, lei sta aspettando che cosa? Sto aspettando che parte il Giro d'Italia. Io sono di qua, allora mi piace vedere i corridori e quello. E c'è chi ha fatto diverse ore di viaggio per non perdersi questo momento. Lei da dove viene? Da Forlì. E lei è venuto? Solo per vedere il Giro d'Italia soprattutto, siamo dei tifosi da tanti anni, seguiamo. Ho scritto anche delle poesie sul giro, comunque questa è una cosa a parte. Che cosa le sembra questa costa dei Trabocchi? È affascinante, ispira molto pittori, poeti e quindi è uno scenario, una cornice bellissima per il Giro d'Italia, di meglio non potevano trovare, è una bella occasione. E c'è chi fa la foto al fiocco rosa e il momento è bellissimo per la costa dei Trabocchi. Bellissimo, sì sì, è un appuntamento davvero straordinario questo che quest'anno vivremo tutti, sì certo, senza altro. E viva la costa dei Trabocchi. È bellissimo pure vedere, viva la costa dei Trabocchi, è bello vedere anche questi addobbi. E qui sotto la scritta, la grande partenza, da dove viene? Da Roma, da Roma. Non poteva perdere questo momento? No, perché abbiamo una casa qui da 50 anni e conosco un po' tutta la storia dei Fantini che è nativo di Fossa Cesia e qui spesso, anni addietro, incontravo Bartali e adesso viene il figlio qui a villeggiare d'estate.